Granchio reale, abbiamo un problema da risolvere. Sì? Andiamo, andiamo a vedere una partita di calcio. Ok, andiamo. Wow, eccoci qua. Siamo arrivati a una partita di calcio. Noi possiamo vedere una partita di calcio. Certo, certo. Adesso ci sediamo. D'accordo, d'accordo. Oh mio Dio! Mi sono rovinato i capelli. Devo andare al parrucchiere. Adesso! Accidenti! Va, andiamo a casa. Ok. 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 Grazie a tutti